Nessun dubbio sulla mia posizione politica. Sono una persona leale e coerente, impegnata a rafforzare la Lega su un mandato di Matteo Salvini con le realtà moderate, civiche e autonomiste. Così il presidente della Commissione di Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo chiude a mezzo stampa i retroscena politici circolati nei giorni scorsi relativi a un presunto transito dello stesso Minardo verso il nuovo movimento di Raffaele Lombardo. Retroscena che spiega Minardo sulla stampa, mi ha dato l'occasione per mandare un messaggio al presidente Lombardo con cui non ci sentivamo da mesi. Nessuna guerra tra bande, prosegue Minardo nel centrodestra siciliano, lavoriamo nell'ottica di un confronto orientato sui problemi della Sicilia. Peraltro lo stesso Minardo chiosa nella sua intervista in maniera netta. Venerdì in occasione della ringar difensiva all'interno del processo Open Arms in cui Salvini è imputato, sarò a Palermo per solidarietà con Matteo perché da ministro ha sempre agito nell'interesse degli italiani.